Oggi lo sbaracco, quali sono le previsioni? Le previsioni sono di riuscire a creare un evento, comunque in tutta sicurezza, e anche per poter fare partecipare le persone per le ultime occasioni che fanno parte dei meravigliosi abiti che abbiamo nei nostri negozi e che trovi solo in centro, da noi. Prevedete tanta affluenza? Secondo me l'affluenza sarà comunque in modo tranquillo, ormai le persone hanno capito anche un po' come muoversi, quindi sì, prevediamo dell'affluenza, ma in maniera light, insomma. Come sta andando il vostro settore? Il nostro settore è in sopravvivenza, come tutti gli altri, l'unica cosa è essere sempre coraggiosi. Speriamo che questa iniziativa porti le persone in centro, che sia un momento per vivere un pochino di normalità, visto che lo sbaracco c'è sempre stato, e speriamo appunto che sia un'occasione giusta per vivere un momento di serenità per quello che si può in questo periodo, sempre rispettando le regole del momento. Prevedete una grande affluenza? Lo spero, si spera. Comunque da quando le temperature si sono alzate, ci sono le belle giornate, la gente esce di casa, si vede che ha voglia di colore, ha voglia di novità, e quindi speriamo, spero di sì, insomma, me lo auguro. Come sta andando il vostro settore? Allora, gli ultimi mesi, dopo Natale, non troppo bene, però comunque in questi giorni c'è stata una ripresa, almeno per quanto mi riguarda. Noi ovviamente ci aspettiamo che ci sia, insomma, un buon afflusso di gente, sperando ovviamente che tutti, insomma, mantengono quelle che sono le regole del PCM nuovo, con il distanziamento, con le mascherine, insomma, al tempo sì, effettivamente non è dei migliori, c'è molto vento, però, insomma, per fortuna è uscito il sole, quindi positivamente ci aspettiamo di vendere. Come sta andando il vostro settore? Beh, il nostro settore, tutto sommato, essendo un settore abbigliamento bambini, non sta andando male, i bambini crescono, quindi hanno necessità, ovviamente, di abbigliamento per la scuola e anche per il tempo libero. Si spera per il meglio, oggi abbiamo anche il tempo che non è tanto favorevole, abbiamo vento, quindi scogliamo l'attimo, abbiamo oggi e domani, che domani non ci sarà lo sbaracco, quindi per essere in zona gialla. Da dopodomani, purtroppo, questa chiusura, speriamo di potercela fare. Come sta andando il vostro settore? Allora, alti e bassi, che comunque, insomma, l'intimo, qualcosina in più, ecco, l'abbigliamento, se qualcosa, la cliente va fuori, si va, però, ci sono chiusure alle nove, siamo tutti rinchiusi in casa, quindi dalle sei in poi non si può uscire. Speriamo, speriamo bene, speriamo, io sono positiva, quindi spero anche nel lavoro. Allora, noi prevediamo che vada bene, tempo bello, ultimo weekend in zona gialla, quindi speriamo che la gente si muova, rispettando ovviamente tutte le regole che ci sono da rispettare, ci teremo tanto. Prevedete una buona affluenza? Sì, pensiamo di sì. Come sta andando il vostro settore? Noi stiamo lavorando abbastanza bene, non so dirti di altri, non ti so dire. Presumo bene, visto comunque che è un discorso che questo evento, in ogni caso, attira sempre, e poi, essendo l'ultimo giorno, il penultimo giorno di libertà, penso ci sarà movimento per quello anche. Come sta andando il vostro settore? A giorni. Ci sono giornate più buone, giornate meno buone, poi l'andamento di questi cambi di colore sicuramente influisce tanto anche sul nostro settore. Ultimo weekend di zona gialla, sbaracco, sole, spero molto bene, speriamo molto bene, speriamo che ci sia passeggio, anche per i bar e i ristoranti che poi da lunedì saranno chiusi e noi aspettiamo tante persone e sì, insomma, prevediamo un bel flusso di gente in città. Come sta andando il vostro settore? Il nostro settore sta andando molto a rallentatore, possiamo dire così, perché comunque anche questo cambio di fasce di mese in mese di certo non aiuta, rallenta moltissimo anche il nostro lavoro con le aziende che ci forniscono la merce e anche secondo me c'è molta paura ancora e quindi è molto rallentato. C'è stata una timida ripresa quando siamo usciti dalla zona arancione delle vacanze del Natale e vediamo, vediamo, noi possiamo solo che stare ad aspettare, sperare in bene, sperare che se ne esca il prima possibile, visto adesso che arriverà la bella stagione, l'estate e nient'altro. Purtroppo non è colpa di nessuno, quindi di conseguenza non si può neanche fare niente se non sperare che vada tutto bene. Grazie. Buona giornata.